Lucrezia Auditore, una studentessa del liceo artistico Basile, sei l'ideatrice di questo disegno e di questa frase sulla maglietta che tutti oggi portavano addosso. Sì, sono io l'ideatrice, vengo dalla scuola, dal liceo artistico è stata l'Ernesto Basile. E diciamo che la progettazione di questo disegno è stata abbastanza breve, purtroppo per i tempi ristretti, ma per fortuna il significato è anche a livello, possiamo dire, artistico, è molto significante, possiamo dire così. Ecco, è un fiore, un fiore dal quale si staccano dei petali, è uno il rosso. Esatto, rappresenta una margherita, un fiore molto comune e anche molto bello. Un fiore forse che ci accomuna tutti, credo. Da questo fiore, quasi senza petali possiamo dire, possiamo anche intravedere un petalo rosso. Questo petalo rappresenta il simbolo di violenza, perché anche da una margherita bianca, perfetta, apparentemente bella, perfetta, può nascere un problema, una violenza, qualcosa che cade anche per essere risolto, insomma. L'idea che oggi più di 500 persone indossassero questa maglietta ti ha emozionato? Sì, molto. In realtà non avevo ancora realizzato il fatto che tutte queste persone indossassero questa maglietta. Quindi sono molto felice di questo. Grazie a tutti.